Dopo anni, dopo anni, guardate che barba, fiumicino e alettoni, Dzeko è partito con questi, Dzeko oggi, è partito da fiumicino con questi, con questi alettoni qua è partito Dzeko Perché dopo anni di voci, negli ultimi tre anni un sacco di voci, Dzeko all'Inter, Dzeko all'Inter, Dzeko all'Inter Finalmente il sogno di Dzeko di vestire la maglia nell'azzurra si è avverato Va dunque in ospizio in caso di riposo all'età di 35 anni e prenderà 5 milioni di euro all'anno Quindi il grande bomber Edin Dzeko andrà anche lui, diciamo quasi in pensione, nella corte milanese Che dire ragazzi, io mi aspettavo di fare un video diverso, mi aspettavo di arrabbiarmi, di rimanerci male Perché fosse stata una cessione, se questa cessione fosse accaduta nei momenti passati in cui c'erano queste voci Il mio cuore si sarebbe spezzato, cioè io ci sarei rimasto malissimo Sono sempre stato ogni volta, da tre anni e mezzo a questa parte, ci fosse una voce su un addio di Dzeko Dal Chelsea all'Inter, eccetera Io stavo lì col cuore in ansia a dire speriamo, speriamo che non vada via Mentre non mi aspettavo che la mia reazione fosse stata questa Sti cavoli Sti cavoli Dzeko all'Inter, sti cavoli Basta Onore a lui Io sarò sempre grato Sotto l'aspetto dei sentimenti Dzeko per me è rappresentato molto Dzeko è stato l'attaccante, uno degli attaccanti più forti che ha vestito questa maglia Terzo miglior marcatore di sempre nella storia della Roma Quindi adesso andai addosso è veramente da ingradi E lo dico proprio tranquillamente, da ingradi Perché adesso non potevamo stare qui a lanciare la freccia di Dzeko Vuole andare a piazzare la pensione all'Inter? Prego Prego Che vi aspettavate che fosse Romano e Romanista? Che vi aspettavate che chiudesse la carriera qui? Vuole andare a chiudere la carriera con 5 milioni all'anno all'Inter? Bene Scemi loro che glieli danno Perché a un 35enne non gli puoi andare a 5 milioni all'anno È eccessivo Allora ma Dzeko ormai prendeva troppo O si dimezzava lo stipendio Oppure per me può anche andare via all'Inter Perché a un 35enne che tepia Quei 6-7 milioni all'anno sono troppi Sono troppi Quindi io i 5 milioni che gli dà l'Inter Non glielo avrei mai dati Mai dati Quindi sotto questo aspetto per me l'Inter fa una cavolata A piazzare in 35enne a queste cifre Per quanto era dell'ingaggio E noi ci liberiamo di un ingaggio pesantissimo per un 35enne Sotto l'aspetto tecnico poi perdiamo un elemento fondamentale Perché per me Dzeko a livello tecnico è veramente mostruoso E dico mostruoso perché ciò che ti dà Dzeko in campo La gente lo giuri che è solamente in base ai gol E ti ha fatto pure quelli Non è che i gol non te l'ha fatti Ti ha fatto pure quelli i gol Terzo miglior marcatore della nostra storia Ma compensava i gol mancati Con prestazioni che solamente uno con la qualità di Dzeko Ti poteva dare Perché Dzeko in campo era fondamentale Senza palla Con il pallone tra assist Creava occasioni Visione di gioco Cioè a livello tecnico di testa Dzeko ragazzi era fortissimo Ed è veramente difficile adesso andare a tamponare la sua stenza sotto questo aspetto Ma se Dzeko deve continuare a giocare nella Roma Sbogliato prego Ciao Arrivederci Grazie di tutto Io non ti dico vattene affanculo Beh partita Ma mi ammazzano Mai detto una parola Non ti dico vattene Vai a quel paese Non te lo dirò mai Ma se vuoi andare prego Ciao Grazie Ti dirò sempre grazie Perché io non sputo nel piatto che ho mangiato Lui lo fa Non mi interessa Poi non l'ha fatto Semplicemente L'anno i soldi e se ne va Va ma che L'unica pecca è che due settimane fa diceva Che voleva restare alla Roma Due settimane fa diceva Basta Stevo ci danno fastidio E mostro a Ciampino Parterà a Milano Va bene Sti cavoli Cioè ciao Che te lo vede a di No me ne va dall'Inter due settimane fa Poi ti va a dire altre cose Ma questa domanda è mirata a quella Che devi fa Se poi non gli risponde Se c'è intorno è palese che se ne va E quindi ovviamente gli ha dato le risposte che volevano Però poco importa Per me Dzeko rappresenta tanto Ma tanto ormai l'Inter gli da me bolliti Gli abbiamo dato la Angolan Che ormai non gli ha fatto niente Anni fa Dieci anni fa E abbiamo dato Mancini Mancini Amantino Dalla Roma Lì andato lì Non ha fatto niente Kolarov Non ha fatto niente E poi ne ha pure Dzeko Tanto Per me Dzeko all'Inter Non farà niente Non farà niente Di che non uscirà a colmare Il voto di Lukaku Lo dico con molto mare in bocca Ma quello che ha dato il gioco alla Roma Veramente è da un grazie enorme Io l'ho sempre difeso Ci ho sempre messo la faccia Per difenderlo Da sempre Dal primo anno Scandaloso che fece Sempre Sempre Ho beccato gli sputi in faccia Ho beccato gli insulti D'amici mia Ho beccato Veramente in qualsiasi discorso sulla Roma Beccavo gli schiaffi Perché io difendevo Dzeko Ma questa mia difesa Poi ha portato i frutti Che meritavano Perché Dzeko Io lo difenderò per sempre Lo difenderò sempre Lo amerò per sempre Adesso lo sto qui a fare Quello romanista Che dice Ah ciao Basta ormai Sti cavoli Dzeko Basta È inutile Che ci affezioniamo al calciatore È vero È inutile Però Lo sai che è così Sono così C'è una loro carriera La loro professione Il gioco se n'è andato Bah Manco a dire Manco a dire Che c'è l'ha tradito 35 anni Fa più a 5 primi all'anno Manca a dire Fosse andare un zagnolo Fosse andare un zagnolo Nella squadra rivale Bellimetro arrabbiato Come l'ho fatto Come l'ho fatto E come pensavo di fare Anche questa volta Anche questa volta Mi serveva uno sfogo Perché ogni anno Diamo i nostri giocatori Alle rivali L'ho fatto con Angolana Con Pianic Con Manolas Potevo farlo anche Con il gioco quest'anno No Quest'anno Dico di non farlo Perché non ce l'è bisogno Perché Non è L'unica cosa Che mi fa un po' girare È che lo pagano 2 milioni Cioè Lo pagano niente Ma anche lì A 35 anni Sto discorso Anche per questo Però Fosse la Roma Ad acquistare il gioco Dall'Inter 10-15 Ti chiedevano State certi Noi ci accontriamo 2 milioni Però la Roma puntava Semplicemente A liberarsi L'ingaggio Troppo pesante Pinto Mosta a Londra La tratta con Abraham Vediamo un po' che succede Vediamo un po' Chi sostituirà Il nostro d'ingaggio In caso Nel profondo del cuore Io sinceramente Sono un po' triste Perché Sotto il livello affettivo Io c'ho un pello bianco No spero di no Grazie di tutto Edina È stato veramente Un piacere Un onore Averti squadra È stato un piacere Un onore Difenderti contro tutto E contro tutti Non ti fai mandare In bocca al lupo Perché ormai Sei il mio rivale Però Il tuo nome Incito nell'album Della Roma E chi dice No È in ingrato E lo ribadisco Non ci stanno qua Discorsi Perché ve l'ho detto Aspettatevelo Che prima o poi va via Scialla Grazie a tutti